I carabinieri della compagnia Napoli Poggio Reale, supportati dai militari del nucleo radiomobile del reggimento Campania, hanno identificato 162 persone, di cui 78 pregiudicati, controllati 106 veicoli con 5 mezzi sequestrati. Durante le diverse perquisizioni effettuate, i militari hanno setacciato le aree comuni, condominali e rinvenuto quasi 150 grammi di sostanza stupefacente. Denunciati 3 parcheggiatori abusivi e contravenzionati 26 autisti indisciplinati per un totale di 27.000 euro. Controllati 2 esercizi commerciali abusivi che sono stati chiusi perché trovati privi di qualsiasi tipo di autorizzazione allo svolgimento dell'attività e HCCP.